Benvenuti a questo primo incontro del Polo di Latina nell'ambito dell'iniziativa dei lincei per la scuola. Io mi chiamo Alessandro Teta, sono docente alla Sapienza e coordino questo Polo in stretta collaborazione con i professori Francesco dell'Isola dell'Aquila, Enrico Rogora della Sapienza e Mario Pulvirenti della Sapienza. Si riprende dopo la lunga parentesi della pandemia, però la struttura di questi incontri abbiamo pensato di mantenerla uguale. Per chi non l'avesse vista all'epoca, ogni incontro si articola in una conferenza di un rispetto della materia, seguito da un breve intervallo per il caffè e poi c'è lo spazio per la discussione. I temi che verranno trattati, li avete visti, stanno sul programma che abbiamo messo in rete e poi li abbiamo anche mandato. In generale si tratta di affrontare questioni di cultura scientifica con un approccio di tipo storico-critico e anche in connessione con temi importanti che riguardano il mondo che viviamo, le situazioni che viviamo. La struttura del corso è un po' diversa forse da quella seguita da altri tipi di poli, da altri poli della stessa iniziativa dei lincei, però sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto prima della pandemia c'è parso il caso di replicare con questo tipo di impostazioni. e naturalmente la buona riuscita di questi incontri, di questa serie di incontri dipenderà dalla vostra partecipazione naturalmente, sia quantitativa che qualitativa e quindi speriamo che ci sia partecipazione attiva. Vabbè, io non voglio farla lunga e quindi lascerei la parola a Mario Pulvirenti che in modera questo incontro. Buon pomeriggio, in barattina voglio presentare il nostro primo speaker che è il professor Benedetto Scoppola di Roma Torbergata. È una persona esperta in fisica matematica, in storia della matematica, in problemi relativi all'insegnamento. È una persona ideale per le sue competenze ad aprire il ciclo di conferenze. Posso aggiungere, sfrutto l'occasione per aggiungere una mia valutazione personale. Nel passato il problema era che nella prima parte dell'elezione le persone erano esitanti a porre questione. Penso che fosse legata al fatto che questa domanda forse è troppo stupida, meglio non correre rischi. E dopo il caffè ci si... Lei, se mi permette, è una fascia nota. È vero o no? Sì, le ho fatti tutti. Mi fa piacere che venga anche oggi. Nessuno fa domande, sono domande. Non esitare se c'è qualcosa di invito. Scusate se in questo mio personale invito. Benedetto, prego. Grazie, sono completamente d'accordo con questo personale invito. Se qualunque cosa mi dobbiate interrompere, sono molto lieto che lo facciate e cerchiamo di capirci nel migliore possibile. Hanno avuto i medi? No, in genere no, sono piccoletto. Minare non sono mai stato tanto bravo, neanche quando andavo a scuola. Allora, dunque, perché mi piace tanto parlare di Maree? In realtà per tre motivi. Perché il problema da un punto di vista storico è meraviglioso, è veramente bellissimo. Da un punto di vista matematico è un problema tutto sommato relativamente semplice. Cioè, diciamo che quello che cercherò di fare, forse dipende da problemi tecnici, ma insomma, quello che cercherò di fare è proprio scrivendolo sull'iPad, cercherò di farvi il conto dell'ampiezza delle oscillazioni mareali che viene normalmente attribuito a Newton, ma secondo me è un falso. Io ho provato a leggere i principi che sono di lettura difficilissima. In realtà, scritto come lo facciamo noi è molto più tardo, è dell'Ottocento circa. Newton naturalmente aveva capito tante cose e insomma è il primo che ha dato una risposta completa al problema delle Maree, però per capirlo meglio bisogna leggere cose un po' più recenti. Ma comunque, diciamo, il tentativo che ho fatto è che ho presentato a degli studenti che prima del Covid venivano periodicamente a Torvergata per fare una specie di alternanza scuola-lavoro in matematica. Quindi capite bene che sono studenti un po' particolari, da un punto di vista statistico non valgono molto. Però si sono appassionati tantissimo. Mi piace ricordare questa studentessa molto romana, con i capelli blu, che diceva, perché ne le fanno a scuola così queste cose? Questo mi è piaciuto un sacco. Quindi questo è stato per me una specie di risultato che mi piace dire perché sono stato proprio contento che c'era qualcuno che si era molto appassionato. E diciamo, si può fare questo conto di Newton veramente con matematica che non direi nemmeno degli ultimi anni del liceo scientifico, direi del terzo anno. Con un po' di algebra veramente si riesce a capire tutto, almeno del conto dell'ampiezza delle oscillazioni mariali. Il terzo motivo per cui mi piace tantissimo parlare di marie è che, diciamo, le marie sono di per sé stessa un tema in cui si vede che la scienza parla di modelli. Cioè quando noi parliamo della teoria classica, quella cosiddetta statica, poi a un certo punto vi dirò che vuol dire delle marie, è chiaro che stiamo facendo delle assunzioni che proprio sono false. Cioè stiamo supponendo che la Terra è perfettamente sferica, gira attorno al Sole su un'orbita perfettamente circolare, tutto falso fin qui, e soprattutto che è ricoperta uniformemente da degli oceani. Ovviamente non è questo. Nonostante queste semplificazioni, si riesce ad avere un modello che ha delle capacità previsive, che non ci dà delle informazioni buone per quanto riguarda l'ampiezza delle marie a seconda di dove siamo sulla costa. Chiaramente quello dipende moltissimo da dove siamo. Sapete, ci sono dei posti in Cana dove le marie sono alte 21 metri, che è una cosa veramente imponente. Mentre invece nel Mediterraneo le marie, perché uno non ci fa caso, un pochino si vedono, ma sostanzialmente nemmeno si vedono, tranne in fondo all'Adriatico dove c'è l'acqua alta. Quindi le marie dipendono tantissimo da dove le osserviamo. Ma almeno per i periodi la teoria che otteniamo da questa teoria molto semplificata fatta da Newton è perfetta, cioè una volta che abbiamo le serie storiche, siccome abbiamo capito i periodi con cui la marie oscilla, riusciamo a fare delle previsioni anche molto dettagliate. Questo mi pare importante da un punto di vista pedagogico, perché è un po' da sfatare il fatto che la scienza è tanto più buona quanto più il modello che studia è vero. Il modello che noi studiamo oggi non è vero per niente, eppure è utile, ha una capacità previsiva molto forte. Credo che sia importante anche in un periodo come questo, in cui un po' di razionalità in giro la vediamo, mettere in luce le caratteristiche della scienza, quanto di buono e quanto di non di cattivo, i limiti che la scienza naturalmente ha. Tutte e due le cose sono importanti e mi pare che le marie siano un tema estremamente positivo da questo punto di vista. Allora, io vorrei ripartire dalla fenomenologia. Dunque, Lucio Russo è una persona che citerò tanto oggi. Lucio Russo è un matematico che ha fatto dei risultati in probabilità veramente straordinari e poi a un certo punto si è scocciato e si è messo a studiare la storia della scienza antica. In particolare sapeva il greco, e lo sa ancora, e ha scritto dei libri veramente meravigliosi. In questi libri, negli ultimi in particolare, ha forgiato questo modo di dire la scienza fossile. Nella storia della scienza si vede come a un certo punto certe nozioni diventano fossili. E perché diventano fossili? Perché si sa da testi antichi che certe cose sono vere. Per esempio, un esempio molto chiaro è la rotondità della Terra. In realtà che la Terra è più o meno sferica, anche nel Medioevo è una nozione che non si è mai persa. Per esempio, la Terra di Dante è sferica. Però si vede proprio da Dante che il contenuto scientifico della Terra sferica è completamente perso. Perché in particolare la Terra è sferica, tu entri nell'inferno, poi c'è un lungo cunicolo che ti fa uscire dall'altra parte agli antipoti dove c'è il purgatorio. Quindi chiaramente non stiamo parlando di nozioni scientifiche. Tutte le persone colte sapevano che la Terra era sferica, ma non c'era più nessuna applicazione. E perché non c'era più nessuna applicazione? Perché la gente andava nel Mediterraneo. Queste cose si studiano quando le persone navigano in mari aperti. Nell'oceano aperto i greci lo facevano, gli arabi lo facevano, infatti hanno sviluppato la scienza. Nel Medioevo, insomma, più o meno si navigava nel Mediterraneo se si navigava da qualche parte. Quindi tanto tanto la Terra sferica non serviva. E quindi si è persa la fenomenologia che aveva dato luogo al concetto di Terra sferica, si era completamente persa. E quindi si diceva, si insegnava che la Terra sferica si diceva solo la fine della storia. Non si diceva quali erano i fenomeni che serviva descrivere e come si è arrivati alla descrizione a cui si era arrivati. Quando si perde la fenomenologia, l'uso russo parla di scienza fossile. Allora, con tutto il rispetto e l'affetto enorme che ho per la scuola italiana, io temo un pochino che la scienza che noi raccontiamo nella scuola è un po' fossile. Cioè, per esempio, vi confesso, mi succede la prima domanda che io faccio quando insegno nel corso di meccanica razionale agli studenti di fisica, che poi sono studenti di fisica, gente che dovrebbe essere motivata. Tutti sanno naturalmente che il Sole accettano il sistema solare e tutti i pianeti girano attorno. Qualcuno addirittura si lancia nel fatto che le orbite sono ellittiche, il Sole occupano dei fuochi, cose di questo tipo. Ma se uno gli chiede quali sono i fenomeni che ha osservato Keplero per arrivare a queste giuste conclusioni, gli studenti di fisica, che pure dovrebbero essere molto motivati, non lo sanno. Io temo che non sia colpa loro, badate, non credo nemmeno che sia colpa di chi insegna nella scuola, credo che sia colpa di un clima culturale, per cui la scienza è una cosa che non si può capire, bisogna accettare per quello che è. Invece non è questo, la scienza è proprio una cosa che chiede di capire un sistema, di vedere i fenomeni che ci interessano in quel sistema e poi di dare una spiegazione che abbia una certa capacità previsiva, che ci permetta di capire quel sistema allora come si evolve. E quando la scienza è abbastanza buona, ci dice anche come costruire dei sistemi che in natura non ci sono e qui nasce la tecnologia naturalmente. Quindi mi pare che recuperare questo passaggio dai fenomeni alla teoria che viene dopo sia una cosa importantissima, su cui mi sento di… cioè insomma io ci lavoro tanto da questo punto di vista e dovrebbe essere fatto un po' a tutti i livelli. Io sono inorridito dal fatto che il primo tema di storia che viene insegnato nella scuola primaria è il Big Bang, cioè io mi sembra atroce, cioè quella non è storia e tra l'altro per capire qualche cosa del Big Bang occorre se bastano 5 anni di corso di laurea in fisica, perché insomma è il Big Bang, è la teoria quantistica relativistica, insomma è una roba piuttosto sofisticata. Ecco, quello è proprio l'esempio classico di scienza fossile. Ma ecco, io ho sempre il timore che un po' la scienza fossile tenda a, come dire, espandersi nella nostra società. Per cui mi piace tanto cominciare quando parlo di fenomeni, insomma, che ho studiato e che conosco, mi piace tanto partire dai fenomeni. I fenomeni non è facilissimo trovarli, perché, diciamo, che si occupano di mare veramente, ci sono due comunità, una che i dati non te li dà, perché sono i militari, cioè i militari chiaramente vogliono sapere modelli per cui possono prevedere le mare in un posto dovranno fare la guerra, tipicamente, ma a me non me le danno questi dati. L'altra comunità invece che è più tranquilla sono i surfisti. Questa immagine, ormai è un po' datata, ma insomma le mare sono ancora così per fortuna, questa immagine viene da un sito di surfisti, sono le maree, sono abbastanza alte, non si vede, ma sono maree di un paio di metri, quindi più di quelle che vediamo nel nostro Mediterraneo, che sono a San Felipe in Mexico, però da questa cartina si capiscono un po' tutti i fenomeni caratteristici delle maree. Innanzitutto che sono le maree? Sono un periodico innalzamento e abbassamento del livello dell'oceano e questo livello dell'oceano si alza e si abbassa, come si vede, se lo guardate bene bene, si alza e si abbassa non proprio in 24 ore, 24 più un pochino, è in realtà un giorno lunare, poi tra un po' ci arriveremo al giorno lunare, però sostanzialmente in un giorno vanno avanti e indietro due volte. Siamo a gennaio e cercherò di darvi un'idea del perché a gennaio succede, i due flussi mareali nello stesso gennaio non sono uguali, c'è uno più alto e l'altro è più basso. E poi questo innalzamento e abbassamento non ha sempre la stessa entità. Quando c'è la luna nuova, quel disco nero, e quando c'è la luna piena, il disco pieno attorno al 15, le maree sono più alte, mentre invece quando la luna, come si dice, è in quadratura, cioè è ad angolo retto rispetto al sole, prendendo nell'angolo la terra, le maree sono più basse. Questo è un primo insieme di informazioni che dobbiamo ricordare. Se uno le vede, le maree sono abbastanza impressionanti, cioè noi appunto nel Mediterraneo non le vediamo, se andate a Sabaudia si vedono poco le maree, a Sabaudia o al Circeo si vedono poco le maree, ma se andate già sull'Atlantico, ma soprattutto in certi posti dove ci sono dei golfi lunghi e stretti, le maree sono veramente impressionanti. E uno si chiede, ma come mai arriva tutta quest'acqua tutta insieme e poi dopo pochissimo se ne arriva, cioè in particolare poi il tempo che ci mette ad alzarsi è straordinariamente breve, poi sta alta per un bel po' di tempo e poi si riabbassa. Ma come, cioè chi gli dà tutta questa forza per andare da una parte e dall'altra? Veramente è un fenomeno molto imponente e che ti mette molta curiosità effettivamente. Ci sono altre caratteristiche delle maree che in questo disegno non si vedono, comunque già si vedono due periodi, quello semidiurino e quello semimensile. Sicuramente poi si vede con osservazioni sofisticate ma non troppo, perché per esempio, per quello che ne sappiamo, almeno gli arabi già se ne erano accorti, c'è anche un periodo annuale, cioè ci sono dei momenti durante l'anno in cui le maree sono un pochino più alte e dei momenti in cui sono un pochino più basse. Facendo misure molto sofisticate si vede anche un periodo di 18 anni e mezzo e uno si chiede questi 18 anni e mezzo da dove vengono. Beh, questo è un dato molto antico, lo sapranno anche i babilonesi. 18 anni e mezzo sono il tempo che ci mette la luna ad andare ad alzarsi e riabbassarsi sull'eclittica. Sapete che noi lo interpretiamo così, il piano dell'orbita lunare non è lo stesso piano su cui si muove la Terra, c'è un piccolo angolo di 4 gradi. Quindi siccome poi questo piano con un conto meraviglioso che è stato fatto nell'Ottocento, si sa che precede, cioè la verticale di questo piano descrive un cono, questo piano precede quindi noi vediamo la luna passare più in alto dell'eclittica, poi andare sopra l'eclittica, poi abbassarsi e poi risalire. Questa cosa avviene in 18 anni e mezzo. Il fatto che i babilonesi festeggiassero la festa della luna ogni 18 anni e mezzo è almeno una testimonianza del fatto che avevano un modo di scrivere le osservazioni, perché è una periodicità che nella vita di un astronomo babilonese che per quanto fosse una civiltà buona, ma insomma più di 40-50 anni non si viveva, il fatto di rendersi conto che c'è una periodicità è una cosa che si deve passare di generazione in generazione. Bene, anche questi moti della luna hanno un effetto sulle maree, ci sono altri effetti ancora più piccoli ma lasciamo perdere insomma. Questi sono i fenomeni che vogliamo descrivere, questi fenomeni sono complessi e appunto come vi dicevo hanno molto incuriosito gli scienziati un po' in tutti i periodi, anche quando erano un po' meno scienziati nel medioevo ragionavano sulle cose in modo un po' diverso da noi, ma sempre è stato un tema molto studiato e su cui c'era molta curiosità. In particolare Galileo ha scritto come sappiamo il dialogo sopra i massimi sistemi. In realtà il titolo che lui aveva scelto all'inizio non era il dialogo sopra i massimi sistemi, ma il dialogo sui flussi e riflussi del mare, perché l'argomento forte che Galileo porta per la sua argomentazione a proposito del fatto che è la terra che gira attorno al sole e non viceversa, è una teoria delle maree. Peccato che la teoria delle maree di Galileo era veramente sbagliata, questo è un fatto strano che non viene tanto raccontato. La teoria delle maree di Galileo prevedeva una marea ogni 24 ore invece che ogni 12. In particolare nel dialogo c'è un punto in cui gli viene detto ma guarda che però l'acqua alta a Venezia è ogni 12 e lui risponde sì ma insomma quella è il mare Adriatico, sarà un po' particolare, ma la teoria delle maree è quella che vi dico io. Però giusto per dire, a parte questa storia di Galileo che diciamo soprattutto scriveva molto bene e poi aveva delle idee filosofiche sulla scienza molto giuste e molto belle, quando si metteva a fare il fisico teorico non sempre ci pigliava e questo è un esempio in cui veramente non ci ha preso molto. Comunque sia è un personaggio straordinariamente importante e straordinariamente ricco da studiare. Io per esempio lo leggerei in una classe, un po' di brani di Galileo li leggerei. Comunque sia diciamo quello che possiamo dire è che probabilmente esisteva una teoria antica, non ci è arrivata assolutamente, ma ce ne sono arrivate due piccolissime reliquie da persone che ne parlano perché hanno ancora i testi della scienza ellenistica e che però sono di epoca imperiale. Questi testi dovevano essere duri da leggere perché non li hanno tanto capiti e dicono delle cose buffe. Io due ve li vorrei leggere, sono brevi. Il primo è un pezzo all'inizio della geografia di Strabone, Strabone scriveva in greco ma era di epoca imperiale, che dice che non è verosimile che l'oceano atlantico da Gibilterra all'Asia sia diviso in due mari, cioè si erano posti il problema dall'Asia, cioè dalla Cina diciamo, fino a Gibilterra. C'è un mare solo o ce ne sono più di uno? Lui dice che non è verosimile che siano due, deve essere uno, separati tra loro da uno stretto ismo o insomma da un continente. È più probabile che si tratti di un unico mare continuo. Coloro infatti che intrapesero la circonnavigazione e poi torneranno indietro non dicono mai di essere stati respinti da un continente, ma semplicemente dalle privazioni e dalla solitudine. L'ipotesi di un unico mare si accorda anche meglio con le mutazioni dell'oceano riguardanti i flussi e i riflussi. Il parco non è convincente quando afferma, contro questa opinione, che né l'oceano subisce del tutto le stesse trasformazioni, né ciò concesso, né seguirebbe che l'Atlantico sia tutt'uno in cerchio, chiamando al testimone dell'andamento non uniforme dell'oceano, se l'erco di Babilonia. Capisco che se uno non ha mai studiato queste cose è un po' come dire, bisogna entrare ci dente questa affermazione. L'idea, leggendo anche dei brani un pochino prima e un pochino dopo, è che è chiaro che il parco, che era un grandissimo astronomo del II secolo a.C., aveva fatto una teoria delle maree e a partire dalla sua teoria delle maree, osservando i dati che avevano sulle maree in India, dove erano arrivati Alessandro Magno e a Gibilterra, aveva capito che le maree erano diverse e che quindi l'oceano era diviso in due parti. In un altro punto, Strabone dice che il parco dice che le parti sono diseguali, cioè a partire dall'osservazione delle maree, il parco aveva capito che c'era un oceano più grande dell'altro, come esattamente è. Questo mi sembra notevole e Strabone dice, questo lo diceva anche Seleuco, che sarebbe 150 anni prima. Questa è l'unica informazione che noi abbiamo, perché naturalmente abbiamo volumi e volumi di geografia di Strabone, ma niente scritto dal parco. È l'unica informazione che abbiamo sul fatto che il parco sia occupato di maree. Se ne doveva essere occupato in modo piuttosto intelligente, perché effettivamente aveva capito una cosa molto giusta. L'altra cosa, ancora più strana, più difficile da interpretare, è una frase di Plutarco. Plutarco ha scritto un libricino sul volto della luna, il De Face, De Face che in orbe, vabbè tutto il titolare di non me lo ricordo. Perfetto, grazie molte. Ora, il parco a un certo punto scrive, la luna è aiutata a non cadere proprio dal suo movimento e dall'impetro della sua rivoluzione, esattamente come al proiettile teso nella fionda, la caduta è impedita dal vorticoso motocircolare. Che c'entra questo con le maree? Tra un po' lo vediamo che c'entra questo con le maree. Comunque, diciamo, in qualche senso fa pensare che l'idea di forza centrifuga e forza centripeta, la fonte di parco, che non era uno scienziato, è un letterato, ma sicuramente aveva testi che noi non abbiamo più, la fonte di parco parlava di qualche cosa del genere. Paragonando la terra e la luna, il sistema terra-luna è una fionda, io faccio così con la mano, mi viene spontaneo, ma non lo faccio a caso. Questa è la terra, la luna è il sasso che gira nella fionda, ma dobbiamo far girare anche la terra. Quindi in qualche senso questa frase fa pensare che il concetto di baricentero, che peraltro c'è in opere di Archimede, quindi ce l'avevano chiarissimo il concetto di baricentero, il concetto di baricentero e il sistema terra-luna l'avessero pensato, questi astronomi di cui purtroppo non abbiamo nulla e che guardando le maree ce ne erano accorti che c'era l'America, diciamo. Quindi è molto probabile che una teoria antica esisteva, esisteva ed era piuttosto sofisticata. Bene, c'è una lunga ricostruzione fatta dalla luce russo di quello che succede tra il 1200 e Newton. E ci sono due correnti di pensiero, la corrente di pensiero di Galileo diceva che alla luna non c'entra niente, buffo perché il periodo è un giorno lunare, quindi è buffo. Per esempio anche Leonardo da Vinci aveva detto una cosa molto bella, cioè bella in italiano, la luna non può muovere i mari, che la muoverebbe i laghi? Cioè dice siccome le maree nei laghi non le vediamo non possono dipendere dalla luna, allora dice le maree sono il respiro della terra, la terra è viva e quindi respira. Per dire che ci sono state nel medioevo e nei primi anni dell'era moderna delle teorie piuttosto strane, insomma. C'è un altro insieme di pensatori che probabilmente avevano carte un po' migliori e che dicono un po' di cose che somigliano alla teoria che abbiamo oggi, a parte il fatto che per esempio l'attrazione fra l'oceano e la luna è il fatto che la luna è umida e quindi ha un'attrazione verso l'oceano che è fatto di acqua. Non chiedetemi cosa vuol dire che la luna è umida, comunque questo dicono i diversi testi dal 300 fino al 600. Ecco io il libro di Russo veramente lo consiglio, si chiama Flussi e Riflussi, è un libro meraviglioso, Lucio Russo ha scritto tanti libri belli di storia della scienza antica, Flussi e Riflussi è veramente fantastico ed è costruito un po' una specie con un giallo, cioè si va all'indietro nel tempo e la cosa buffa è che più uno va all'indietro nel tempo più le cose che trova nelle poche persone che evidentemente citando testi antichi dicono qualcosa sono simili alla teoria vera, le teorie più vicine a Newton sono peggiori, è una cosa veramente molto strana. Per quanto riguarda dopo nella scienza moderna vi ho detto i principi di Newton, cioè nei principi ci sta la teoria delle maree, io ho provato a leggerla, più o meno cosa dice Newton l'ho capito, non mi azzardo a presentare il disegnino col trapezio che c'è nei principi perché è veramente poco comprensibile e quindi per esempio se volete una lettura interessante c'è questo signore Eulero che forse avete sentito nominare che ha fatto la DAD, ha fatto la didattica a distanza perché lui era il precettore della figlia del principe di Berlino e a un certo punto è scoppiata una delle mille guerre che ci sono state nel settecento in Germania e la guerra dei sette anni in particolare e la figlia Leopoldina è andata fuori da Berlino e lui gli scriveva una lettera ogni due tre giorni e gli raccontava tutta la scienza che conosceva che incidentalmente era tutta la scienza dell'epoca perché lui era Eulero e insomma era piuttosto fortino. E' bello da leggere in una classe, questo si trova online, l'ultima edizione in italiano è antica, è del 1952 e quindi è un italiano un po' diverso da quello che usiamo oggi ma è piuttosto interessante, io l'ho letto a degli studenti, è bello questo fatto che loro si immedesimano nel fatto che c'è uno che sta parlando con una persona della loro età, è veramente una lettura molto interessante, purtroppo non sono state raccolte le lettere che Leopoldina ha mandato a Eulero, abbiamo solo le lettere di Eulero a Leopoldina, ma la spiegazione delle mani di Eulero è veramente deliziosa, lui era veramente bravo anche come didatta, vale la pena di leggere le lettere della principessa tedesca di Eulero. Un'altra fonte che mi sento di citare è questo George Diving che sarebbe poi il figlio di Charles, quello dell'evoluzione naturale, che si è occupato di maree e si è occupato di maree ma era sostanzialmente finanziato dai militari per i motivi che vi dicevo prima e ha creato una teoria diciamo molto approssimata ma piuttosto buona che più o meno viene utilizzata anche oggi per capire, se non ho le serie storiche, per capire come saranno le maree nel posto in cui sto per arrivare. Lui scriveva molto bene, si trova tutto online su Google Books perché sono testi dell'Ottocento, scriveva molto bene, c'è un testo molto tecnico che non metterai nelle mani dei ragazzi, ma poi c'è un testo molto più divulgativo per cui se vi capita curiosamente che c'è qualche ragazzo che si interessa, quello è un testo bello da studiare. Allora io a questo punto vorrei dirvi un po' qualitativamente prima, poi se mi dite che vi va bene nella seconda parte dopo la sosta io sarei anche insomma desideroso di farvi il conto che ho fatto a Chiara dai capelli blu e che ha detto ma che figolo, dove uno fa la scienza così. Ci vuole un po' di pazienza, è matematica, però io me lo sono preparato e me lo sarei preparato veramente da scriverlo, perché io ho la convinzione che per far capire la matematica uno la deve scrivere mentre la dice, se vi faccio vedere le slide non si capisce niente, quindi speriamo di riuscire. Alle brutte posso provare a proiettarvi poi delle formule, ma spero di non doverlo fare veramente. Comunque qual è l'idea? L'idea è che naturalmente le cose sono più facili o più difficili a seconda del sistema di riferimento in cui vi mettete. In particolare io proporrei a patto che si parli, ma credo di sì, che si parli di forza centrifuga nel programma di fisica della scuola secondaria, giustamente mi stai facendo come, non parliamo di forza centrifuga. Allora io mi metterei in un sistema di riferimento che è centrato nella terra, e che ha come asse x la congiungente fra il sole e la terra. Il sole? Ma non abbiamo detto che le marie le fa la luna? Ecco, le marie le fanno tutte e due, sia la luna che il sole. Allora incidentalmente è molto più facile capire le marie partendo dalle marie solari che partendo dalle marie lunari, quindi io vorrei partire dalle marie solari perché le cose si capiscono meglio, ok? Sono un po' più piccole le marie solari, poi tra pochissimo lo vediamo, sono un pochino più piccole, ma si capiscono meglio, quindi partiamo da quelle. Ci mettiamo in questo sistema di riferimento rivolto verso il sole, cioè l'asse x è rivolto verso il sole, anzi diciamo il sole sta dalla parte negativa, se capite cosa voglio dire. E quindi l'asse y è tangente all'orbita. Naturalmente l'orbita è circolare, la terra è perfettamente sferica, l'orbita è circolare e quindi la velocità angolare è costante, la terra è perfettamente sferica e è ricoperta da un oceano uniforme da tutte le parti, piccolino, l'altezza dell'oceano è ovviamente sempre molto esagerata in tutti i disegni. Allora che succede? Noi sappiamo dal principio di reazione e reazione, direi dal terzo principio della dinamica, che nel centro della terra la forza centrifuga, quella che tenderebbe a portare, cioè a far partire il sasso nella fionda, diciamo, e la forza centripede, la forza gravitazionale, in quel punto sono nulle. In particolare si capisce se noi ci mettiamo in quel sistema di riferimento la terra sta ferma, quindi vuol dire che le forze che sono applicate sulla terra hanno somma zero e quindi c'è una forza centrifuga che va verso destra, no, e qui nel disegno mi sto sbagliando, ah, il sole sta a destra, perdonatemi, non mi ricordavo, il sole sta a destra, quindi c'è un'attrazione gravitazionale che va verso destra e una forza centrifuga che va verso sinistra, qui nel centro sono uguali. Ora però che cosa succede? Lo sappiamo, la forza centrifuga è ω²r, giusto? Quindi man mano che io mi allontano dal sole la forza centrifuga aumenta, se mi avvicino la forza centrifuga diminuisce. La forza di attrazione gravitazionale invece è una forza che va come l'inverso del quadrato della distanza, quindi quando io mi avvicino al sole quella aumenta e quando mi allontano quella diminuisce. Allora si compensano esattamente nel centro, ma quindi c'è un eccesso di forza da una parte verso il sole, ma c'è anche un eccesso di forza centrifuga dall'altra. Adesso io spero di sbagliarmi, devo ammettere che l'ultima volta che ho fatto questa indagine è stata nel 2018, poi non li ho più visti i libri di scuola, ma quello che ho visto nella migliore delle ipotesi, quando nei libri di scuola si parla di Maree, nella migliore delle ipotesi c'è scritto che si crea un riconfiamento verso la luna perché la luna attrae l'oceano e poi c'è un'altra dall'altra parte per simmetria. Vorrei capire chi la dà l'energia per fare un bozzo dall'altra parte, è veramente molto curioso. Direi che non ho mai visto una spiegazione delle Maree nei testi scolastici che sia anche lontanamente ragionevole da un punto di vista fisico. Comprensibile, ma io questo secondo me, poi vi faccio vedere pure cosa ho fatto, ma questo secondo me non è del tutto impossibile, almeno qualitativamente si capisce. Ora non è finito naturalmente perché le semplificazioni che facciamo non finiscono qui. La Terra per esempio gira attorno al suo asse, ma per capire bene le cose lo mettiamo perpendicolari. L'asse naturalmente non è perpendicolare, fa un angolo di 23 gradi con l'eclittica, ma noi le mettiamo perpendicolari per capire. Questa teoria si chiama maree statiche perché supponiamo che la rotazione della Terra non influisca sulle maree, però si capisce perché noi vediamo l'alta e la bassa marea, perché quando siamo qui dovete pensare che l'asse è perpendicolare allo schermo, l'asse di rotazione. Quando siamo in questo punto vediamo l'alta marea. Dopo sei ore siamo in quell'altro punto e c'è la marea più bassa, poi dopo altre sei ore giriamo di qua e la marea è più alta e poi di qua di nuovo la marea è bassa. Quelle differenze delle maree nella stessa giornata nel Messico sono proprio dovute al fatto che l'asse in realtà è piegato e quindi l'altezza della marea non è la stessa da una parte e dall'altra. Con un dottorando con cui ho preparato questa presentazione abbiamo fatto anche un affare che si chiama mareografo, cioè una specie di cornice a un mappamondo che è fatta di questa forma e girando dentro il mappamondo si capisce dov'è che ci sono le alte e basse maree. Ma ci vuole un po' di tempo comunque per capire le differenze fra le alte e alte maree e le basse e alte maree della stessa giornata. E chiaramente è una cosa che c'è solamente all'equinozio e non si vede al contrario, che c'è al solstizio e non si vede all'equinozio. Comunque insomma questo è il funzionamento delle maree statiche. accenno solo il fatto che poi ci sono infinite complicazioni che sono oggetto di ricerca corrente riguardo al fatto che il mare progetto fa attrito, cioè è un oggetto fisico e quindi i bulge non rimangono proprio nella direzione del sole, la terra che gira se li tira un po' presso e quindi viene una coppia che tende a far rallentare la terra, infatti il giorno è sempre più lungo, di qualche millisecondo all'anno, ma il giorno è sempre più lungo e tende anche a fare allontanare la luna. Prego. Torniamo a Galileo questo però. In che senso? Nel senso che Galileo aveva intuito che il movimento della terra potesse... Sì, però lui diceva che le maree sono dovute al fatto che siccome la terra gira, qui la velocità di rotazione è più grande che qui, perché qui devo aggiungere la velocità di rotazione della terra attorno al sole e qui la devo sottrarre. E allora viene un bozzo di qua. Galileo ha un bozzo solo nella sua teoria. Questo invece, questo che dice sostanzialmente in qualche senso Newton, come capite non sono un grandissimo tifoso di Newton, ma comunque questo che dice sostanzialmente Newton invece è una teoria che ci fa capire per esempio perché vediamo due alte maree e due basse maree. Bene, queste... Diciamo, sostanzialmente è la stessa cosa, queste sono le maree lunari. Sostanzialmente è la stessa cosa però, i conti sono un po' più difficili, i conti che se riusciamo e se volete naturalmente, vi faccio nella seconda parte di questo incontro, sono per le maree solari che sono più semplici come conti. Di fatto poi il risultato che avviene è lo stesso. Uno dice, le maree quindi sono un eccesso di energia, cioè di forza centripeta, di forza gravitazionale, un eccesso di energia, cioè di forza centrifuga. E la forza centrifuga qui è la Luna che gira attorno alla Terra, non è la Terra che gira attorno alla Luna, quindi da dove viene questa forza centrifuga? La forza centrifuga avviene dal fatto che c'è un punto che incidentalmente sta dentro la Terra, attorno al quale girano sia la Terra che la Luna. Stava sostanzialmente nel Sole, sostanzialmente nel Sole. No, infatti lì c'è perché non sono riusciti a cancellare la parola baricentro da PDF, ma infatti no, 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 era quello del sistema Terra-Luna, quello che c'era era quello del sistema Terra-Luna. Qui è più chiaro perché si vede bene il baricentro del sistema Terra-Luna che è posto circa 1700 km sotto la crosta terrestre, quindi a circa 5.000 km di distanza dal centro della Terra. Allora, la Luna gira attorno alla Terra, ma in qualche senso anche la Terra gira attorno alla Luna. Ecco, questo sono proprio sicuro, che c'è questo movimento della Terra attorno a un asse che è un po' spostato rispetto all'asse terrestre e che ha periodo di 28 giorni, non c'è scritto su nessun libro di scuola. Questo sono proprio sicurissimo. Ed è proprio un peccato non dirlo, perché è interessante capire che la Terra di fatto nella sua rotazione attorno al Sole fa anche tanti altri moti e questo è quello più importante. Allora, queste sono alte maree dovute alla forza centrifuga, che è la forza centrifuga rispetto alla rotazione attorno a questo punto. E queste sono maree dovute al fatto che la Luna trae un po' più questa parte che questa parte. Queste sono quelle che sono scritte in tutti i libri. Queste altre direi di no. E appunto questo fatto che c'è questo moto in più della Terra attorno al baricente del sistema Terra e Luna mi sembra una cosa interessante da raccontare e che veramente non c'è. Correggetemi, io sono contento. Se mi dite che c'è un libro in cui si parla di questa cosa, sono felice e me lo vado a comprare. Ma non l'ho mai trovato, un libro in cui si parla di questo moto della Terra attorno al baricente del sistema Terra e Luna. Cioè questa rotazione è la responsabile di questo bulge, quindi non è proprio da buttare via come moto. Cioè c'è degli effetti anche macroscopici per noi che viviamo sulla Terra. E mi pare che non ci sia scritto... Newton lo diceva. Il conto di Newton mi pare che sia sulle differenze di forza attrattiva. Cioè se lo riesco a capire bene, è una costante in più. Cioè davanti alla formula dell'escrizione mareale c'è un tre mezzi. Newton non l'ha scritta così, assolutamente. Tra poco ve la faccio vedere. La formula che vi scrivo sta sul libro di Darwin e poi se ne è occupata anche Kelvin, ma certamente non l'ha scritta Newton. Però si chiama formula di Newton. Questo tre mezzi secondo me dai principi a non c'è. Cioè c'è uno di fronte a quella formula. Ma tanto Newton non l'ha scritto, quindi è interessante fino a un certo punto capire bene il... cioè capire se ci ha messo anche gli aspetti di forza centrifuga insomma non è facile. Io ci riproverò, ma insomma direi che la forza centrifuga non ci l'aveva messa. Però diceva la forza gravitazionale ha un gradiente. Qui è più forte, qui è mezzanella, qui è meno forte, quindi essendo meno forte si crea un bulge anche dall'altra parte. Che non è sbagliato insomma. non è cretina per niente. Ecco, dipende dalla posizione del centro di massa? È fra due slide. Te lo dico fra due slide. No, no, io sono contento se mi fate domande, però questa c'è... ci arrivo proprio. E c'è anche una storia carina perché... Però scusa, le faccio una icrappina con io. No, 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 no. Cioè abbiamo capito il... perché con questo modello il lago non ha la marea? Perché... perché con... per questo modello... cioè diciamo la cosa ovvia a questo punto è l'acqua deve essere libera di muoversi. Però c'è anche... ci sono i continenti... Ci sono i continenti, infatti la situazione è complicatissima. Diciamo una teoria completa e convincente delle cosiddette correnti di marea, non ce l'abbiamo ancora. Dovete tenere presente che di fatto non è che c'è questo bozzo che si muove a 1500 km all'ora, non abbiamo correnti di 1500 km all'ora nell'oceano. Di fatto ci sono correnti che portano l'acqua verso l'alta marea e poi che vanno indietro quando il punto in cui siete sta passando alla zona di bassa marea. In altre parole, quando siete in un punto mezzanello, di fatto la forza peso non è perfettamente verticale, c'è anche una componente mareale che vi porta il mare a muoversi da una parte e poi dall'altra man mano che girate attorno alla Luna. Questo non è banalissimo da capire, però passare da questa descrizione statica a quella dinamica è un problema che non sono riuscito a dire in modo comprensibile per un livello di tipo scolastico. Di fatto dovete pensare che c'è l'alta marea, significa che ci sono delle correnti che si muovono verso il bulge. Queste correnti nei laghi non ci possono essere perché il lago è un oggetto piccolo. Questo è il fatto. Spero di avere risposto. Non è la cretina per niente naturalmente la tua domanda. Scusa, ma l'unico si occupa solo del mare e l'urari? No, no, no. Capisce che ci sono tutte e due, rigorosamente. Capisce che ci sono tutte e due perché quello è un fatto fondamentale per capire il secondo periodo, quello semi-mensile. c'ho tutto su queste poche... Dunque, la formula che se volete vi deduco e cerco di convincervi che si può fare in classe, io l'ho fatta a degli studenti motivati ma l'ho fatta, dell'ampiezza delle oscillazioni mareali è questa. La guardiamo un attimo perché c'è una cosa bella che risponde alla domanda che aveva fatto Mario. Vedete, l'altezza delle oscillazioni mareali è proporzionale al raggio terrestre e vabbè. Poi viene dal rapporto fra la massa dell'oggetto che fa le maree, M-M-A, la massa dell'astro, che può essere solo oppure l'una, divisa la massa della Terra e poi moltiplicata per il cubo del rapporto fra il raggio terrestre e quell'area è la distanza fra la Terra e l'astro. Allora, qui merita di ragionarci un attimo perché la cosa è buffa. Tra un po' ci arriviamo, le maree lunari sono alte 54 cm in oceano aperto, secondo questo moradello. Le maree solari sono alte 24 cm, quindi sono assolutamente dello stesso ordine di grandezza, una poco più del doppio dell'altra. Ma è buffa questa cosa, perché guardate questo, la massa del Sole rispetto alla massa della Terra è un numero gigantesco ed è moltiplicato per un numero microscopico. Il raggio della Terra, 7.000 km diviso 150 milioni di km al cubo, quindi è una roba microscopica, un numero molto grande per un numero veramente microscopico. Nel caso della Luna, voi ci avete un numero piccolo, perché la massa della Luna rispetto alla massa della Terra è piccola, ma non piccolissima, per un numero molto piccolo, ma non microscopico come prima, 6.000 km su 380.000, insomma un numero tutto sommato molto molto più ragionevole. Oh, ci avete un numero grandissimo per un numero microscopico e un numero piccolo per un altro numero piccolo che danno più o meno lo stesso risultato, ma come è possibile? Cioè è un caso stranissimo, una cosa del genere è un caso stranissimo. Centra con la legge del quadrato, del universo del quadrato? Centra, no, qui le cose vanno come il cubo perché è un effetto di gradiente, devi fare una derivata. In qualche senso centra. È il raggio della Terra. R grande A è la distanza. La grande è quello piccolo, li vedevo con due simboli. Allora, guardiamola un attimo insieme. Questa è una cosa bella, poi la storia che vi devo dire è che questa cosa l'ho capita o ero sicuro che l'avevo capita per primo. Invece l'hanno capita fino all'Ottocento, quindi non l'ho potuta pubblicare. Però per un attimo sono stato convinto di aver capito una cosa bella. Poi insomma, la cosa è bella, l'ho capitato lo stesso solo che non è venuta fuori la pubblicazione. dell'astro dalla Terra. Può essere migliorabile. No, infatti nel... No, e invece forse devo mettere RAT o D. Vabbè, comunque insomma, quello è. Allora, perché sono dello stesso ordine di grandezza? Guardiamo un attimo questa formula con attenzione. Qui c'è la massa dell'astro. La massa dell'astro a che cosa è preporzionale? Ha la densità per il cubo del raggio dell'astro, giusto? Poi per un 4 terzi pi greco o qualche roba del genere. Ok? Quindi qui sostanzialmente è come se ci fosse il cubo del raggio dell'astro per un numero. Per un numero che dipende dalla densità. E qui sotto c'è la distanza dell'astro dalla Terra. Il rapporto fra il raggio dell'astro e la distanza dell'astro dalla Terra è la sua grandezza apparente. Ora, noi viviamo su un pianeta, non so se ve ne siete accorti, in cui la grandezza apparente è della stella e la grandezza apparente del satellite e del giratore non sono sostanzialmente uguali. Questo è il motivo per cui le maree sono dello stesso ordine di grandezza. E le maree lunari sono più importanti perché la Luna è più densa del Sole. Quanto il Sole sia gigantesco, ha delle pressioni orrende dentro, eccetera, ma è fatto di idrogeno, quindi è roba leggera. La Luna è fatta di sasso e quindi è più pesante. E quindi effettivamente le maree lunari sono più importanti delle maree solari. Se guardate il rapporto fra le maree lunari e le maree solari e il rapporto fra le densità di questi due astri, sono sostanzialmente uguali. Non sono proprio uguali perché in realtà questa è una formula semplificata, ci sono delle correzioni, ma sono sostanzialmente uguali. Quindi si capisce che, una cosa che per esempio non c'è tanto scritta sui libri, che le maree sono proporzionali al cubo della grandezza apparente dell'astro. Al cubo. Quindi capite che le maree di Giove non ci stanno perché quello è piccolissimo. Quindi se fate pure il cubo della grandezza apparente viene una roba microscopica. Le maree sulla Terra sono solo lunari e solari, le altre sono microscopiche. Questo mi sembra un fatto bello, appunto peccato che lo avevano già capito alla fine dell'Ottocento, ma comunque vabbè così è la vita. Allora, questo… No, non erano fossili. Quelli erano bravi, ma quelli erano bravi perché facevano la guerra a continuazione. Cioè veramente uno dei motivi per cui sono state studiate tanto le maree è bellico. Cioè tu devi sapere dove stai andando a armeggiare le navi per fare la guerra fra francesi e inglesi o in Africa o quello che è. Quindi devi studiarti le maree. Sono state studiate tanto in quel periodo proprio per quello perché l'Europa starà sempre in guerra sostanzialmente. Bene, spero di avervi convinto con la slide precedente del periodo semidiurno. Ok? Naturalmente il periodo semidiurno, siccome vince la Luna, è un periodo semidiurno lunare. Cioè il tempo fra una alta marea e una bassa marea è metà del giorno lunare, che è un po' più lungo del giorno solare perché mentre in un giorno solare noi torniamo a vedere nella stessa posizione solo dopo 24 ore, nel frattempo la Luna ha fatto un pezzettino, un ventottesimo di giro. E quindi il giorno solare è poco meno di 25 ore, 24 ore e 52 minuti non è un bel genere. Quindi siccome la Luna vince perché ha le maree più grandi, il periodo delle maree è sul giorno lunare invece che solare. Ma in più c'è anche un altro periodo abbiamo detto, semi mensile. E allora si capisce, no? Quando la Terra sta in mezzo fra il Sole e la Luna, oppure la Luna sta in mezzo fra il Sole e la Terra, rispettivamente quando c'è luna piena e luna nuova, i bulge, cioè i rigonfiamenti sono dalla stessa parte, quindi le due maree si sommano e quindi c'è una marea molto più alta. Quando invece sono in quadratura, dove la Luna vuole fare l'alta marea, il Sole fa la bassa marea e quindi sostanzialmente si sottraggono. Vince sempre la Luna ma le maree sono molto più basse. Già questo tipo di descrizione è quella che dice Newton, quindi questa cosa l'aveva capita perfettamente. Almeno questi due grandi periodi, quello semi diurno e quello semi mensile, vengono facilmente spiegati in questo modo e questo più o meno è il contenuto che c'è di teoria delle maree, nei principi. Diciamo che Newton si preoccupa anche del fatto che in realtà la massima marea non è quando ho la luna alta ma dopo un po' e capisce che c'è un ritardo dovuto a degli effetti dissipativi. Però non va molto più in là di questo, ma comunque capisce che una volta che ho le serie storiche posso ricostruire, basandomi sulle osservazioni precedenti, posso ricostruire. Io poi queste slide se volete, anzi Sandro ce l'ha, in più se volete vi do anche un file dove ci stanno tutti quanti i conti, un po' di discorsi tipo quelli… Sì sì, perfetto, quindi per carità sono contento se vi rifate i disegnini ma ve li posso dare senza nessun problema. Va bene, questo è quello che si riesce a… Quindi posso dire che quella formula che ci ha fatto vedere è vera se solo se la forza di attrazione gravitazionale con l'inverso del quadrato? Questa qui c'è, certo, perché questo RA che non vi è piaciuta la notazione al cubo è la derivata di uno su R quadro e quindi se fosse diversa la forza qui ci sarebbe… Questa formula se nota potrebbe indicare la legge di gravitazione universale? Storicamente è il contrario, cioè Newton prima… questa è la seconda cosa per cui è diventato famoso, la prima cosa è una spiegazione dinamica delle leggi di Kepler e quella usa… Ma di meno altrimenti è più accurata di queste… Sì, ma sì, ma questa è… Se vuoi fare l'inverso… Sì, ah sì, sì, diciamo tra l'altro quello che tu osservi non è veramente questo, cioè ci sono correzioni che sono… Beh, le correzioni più importanti sono dell'ordine di qualche per cento, che comunque se vuoi vedere se qui invece che 3 c'hai 3,1 non te ne accorgi… quindi insomma, diciamo sì, la formula viene dal fatto che… Dire… puoi… penso che ci sono modi più semplici per verificare se veramente la forza di gravità va come esattamente il quadrato dell'inverso della distanza. Siccome siamo nella fase di conversazione, cioè nella seconda fase, lo vorrei… Quasi… Sì, posso solo vedere che mi mancava… Sì, scusami… Posso solo… Questo è quello che vi ho detto prima… Ti volevo interrompere… No, voglio solo farvi vedere due foto, questa è la cosa che abbiamo fatto con gli studenti, si vede la mena torvegata dietro, quella è una foto fatta torvegata. Abbiamo trovato delle palline, quelle antistress, con il mappamondo. Allora abbiamo messo una vite con la colla, perché se uno non ci mette la colla si strappa, dentro la pallina, un pezzo di fil di ferro un po' grosso che entrava in un trapano. Questa è la foto quando il trapano non gira. Gli studenti ci hanno messo questa bella cosa violina per far vedere che è perfettamente sferica. Questa invece è la foto quando gira. Cioè col telefonino si sono messi a fare il filmato facendo tanti frame per il secondo e alla fine si vede che c'è un pezzettino cresce di qua e un pezzettino cresce di là. E questo più o meno è il funzionamento delle marere. C'è una forza centripeta e una forza centrifuga che allungano la terra. E poi per il… lui poveretto mi ha dato il permesso una volta, vediamo se funziona. Ah no, ecco, copriandola non funziona, mannaggia. Che cosa funziona? Ah sì sì, funziona, funziona. Vede, lui ha preso uno zaino pieno di libri. Quando sta fermo sta dritto. Se gira deve girare pure lui a trattore in albaricente. Questo per convincerli che non dicevo fesserie. L'hanno ovviamente sempre fatto loro questo filmato. I libri sono ancora importanti. I libri fisici. Ah, perché stanno nello zaino. No, non è vero. Non è vero, i libri sono importanti. Però qui sono importanti anche perché hanno un bel peso. Lui era Mingherlino, gli hanno detto fallo te, che così si vede più che va indietro. Infatti si vede abbastanza che va indietro. E questo li ha, cioè, paradossalmente li ha convinti molto del fatto che la Luna gira a trattore in o... cioè che la Terra gira a trattore in albaricente fra la Terra e la Luna. E mi sembra, insomma... Ma anche le gare del lancio del peso. Certo, quelli stanno ancora più indietro perché è chiaro. Ma certo, qua è chiaro che così uno si convince che le leggi della fisica dei pianeti e quelli dei corpi terrestri sono le stesse. Non sono troppo diverse, esattamente. Beh, noi abbiamo un po' di rotture scatole tipo l'attrito, un po' di robe così. Però, insomma, a parte quello, sì, sono le stesse. E niente, poi io in realtà mi ero preparato. Ma questo, se vi interessa, può essere pure una cosa che diciamo dopo la sosta, che comunque è un'ora perfetta. Ho finito in un'ora. Dopo la sosta, se volete, vi parlo anche di un altro tema che è quello dei terremoti. C'entrano le marei con i terremoti? Paradossalmente è una cosa, cioè la risposta corretta che vi dovrei dare è non sappiamo. Però ci sono diverse persone che hanno lavorato sulla possibile interazione fra queste due cose, tra cui anche io. E quindi vi vorrei raccontare qualitativamente quali sono le idee per cui, secondo me, non è del tutto escluso. Gli americani sono convinti di no, ma gli europei sono convinti di sì. E non so se c'è ragione. Però insomma, diciamo, se volete vi racconto un pochino di questa storia di scienza recente. Grazie infinite della vostra attenzione.